Buongiorno, sono le sette del mattino, oggi è venerdì 13 a settembre e questa è l'edicola. Edicola che questa mattina iniziamo parlando ancora una volta di soldi perché ieri, come sapete, la Banca Centrale Europea ha deciso di tagliare i tassi. Non solo, tiene ancora banco molto sulle prime pagine dei nostri quotidiani e anche all'interno, insomma ci sono diverse pagine dedicate a questo tema della manovra e di quella proposta di tassare o meglio di favorire chi ha figli. Quindi, ecco, perché oggi vedremoci a un'intervista interessante del sottosegretario dell'economia Freni che spiega un po' meglio, ieri sembrava di capire che si volessero penalizzare, diciamo così, i single o per l'appunto coloro che non hanno figli. Oggi lui dice no, non è esattamente così, ma lo vediamo fra un attimo. Prima parliamo di questa questione del taglio dei tassi. Il Sole 24 Ore ne fa titolo di apertura e ci dice appunto che questo taglio di 25 punti basi significherà sostanzialmente che per le rate mensili dei mutui ci saranno dei cali del 2-3%, che poi è la cosa che, diciamo così, interessa la maggior parte delle persone. E appunto per chi ha un mutuo a tasso variabile si tratta di una buona notizia, dice il Sole 24 Ore, perché le rate dovrebbero ridursi tra il 2 e il 3% circa, quindi si tratta di 30 euro al mese, per un mutuo standard di 150 mila euro a 20 anni. Sono però, e questa invece non è una buona notizia, state anche limate le stime di crescita dell'eurozona, un meno 0,1% quest'anno e nei due successivi. E poi viene riportata, diciamo così, un giudizio di Christine Lagarde sul rapporto Draghi, il suo predecessore sostanzialmente, che dice che è un rapporto formidabile, quello sulla competitività, vedremo se al di là dei complimenti che sono stati fatti da più parti, poi verrà però in qualche modo adoperato. Visto che sono sulla prima pagina di Sole 24 Ore, ne approfitto anche per ricordarvi e segnalarvi quella notizia che anche ieri ha avuto un certo rilievo nei telegiornali della sera, sul fatto che stia crescendo l'occupazione. Perché vedremo, anche qui non è proprio tutto oro quello che luccica, operazione da record, occupazione, scusate, da record nel secondo trimestre, ma calano appunto, vedete, le ore lavorate. Vedremo meglio che cosa significa, intanto però i dati che sono fondamentali. Il tasso di occupazione nel secondo semestre ha raggiunto il record del 62,2% e la disoccupazione è scesa al 6,8%, il minimo proprio per il nostro paese, è un trend che va avanti da un po', infatti è stato confermato anche in luglio, e però, dice, Sole 24 Ore emergono difficoltà per industria, costruzioni e agricoltura, perché probabilmente ricorderete quando l'altro giorno leggevamo che la produttività industriale era calata e quindi come si conciliano i temi? Si conciliano perché evidentemente c'è un'occupazione più in alcuni settori che in altri, solo che il settore industriale o quello delle costruzioni sono settori pesanti, importanti, e quindi non avere, diciamo così, riscontri lì non è una buonissima notizia. Torniamo alla questione del taglio dei tassi. Il giornale anche ne fa oggetto della propria apertura, come vi dicevo, la maggior parte dei quotidiani, e però inserisce, diciamo così, un elemento di critica quando parla di un brodino, lo fa Rodolfo Parietti, a pagina 2 c'è l'articolo che si riferisce appunto a questo prudente, così viene definito, taglio di Lagarde che annuncia che in realtà insomma verrà rivisto anche nei prossimi mesi, tant'è che dice resta in trincea. C'è un giudizio sul Corriere della Sera complessivo però sull'operato di Lagarde che credo sia interessante andare a vedere perché lo scrive Federico Fubini, che è molto attento insomma a tutte queste vicende e mi sembra abbastanza equilibrato. Dice Fubini, 5 anni dopo l'arrivo di Christine Lagarde al timone appunto della Banca Centrale Europea, 3 anni e mezzo dopo l'esplodere della pandemia e di una recessione catastrofica, 2 anni dopo la più grande inflazione dell'ultimo mezzo secolo, è tempo di bilancio. Già aver messo diciamo così sul piatto questi elementi fa capire che non è che proprio le sia andata benissimo, povera donna. A esso dice, questo bilancio dice che la Banca Centrale Europea fondamentalmente in anni recenti non ha sbagliato le grandi scelte, neanche l'ultima, la stretta monetaria per ridurre l'inflazione. Meno di due anni fa il carovita correva al 10,6% in area euro e quasi al 12% in Italia. Oggi resta un problema perché i salari non hanno ancora recuperato il potere d'acquisto perso due anni fa, ma l'inflazione come tale è già stata riportata sotto controllo. Una banca centrale, ci ricorda Fubini, ha solo un rozzo strumento per farlo, rende i debiti più cari per tutti, frena così gli investimenti e i consumi, crea disoccupazione e magari una recessione. La BCE ha riacciuffato il controllo dei prezzi senza una recessione e con la disoccupazione in area euro e i minimi di sempre. Quindi in parte è stata fortuna, dice senz'altro, ma già per non abusare della propria buona sorte facendo disastri ci vuole bravura e un po' di umiltà e credo che abbia abbastanza ragione. Visto che siamo sul Corriere della Sera, vi segnalo l'apertura del Corriere della Sera che ritorna, come vi dicevo, annuncia la questione del taglio dei tassi, ma il titolo più in evidenza è quello che riguarda appunto di nuovo l'aiuto alle famiglie. Si cambia, dice il Corriere, in che senso? Nel senso che, come vi dicevo, viene sentito Federico Freni, che è sottosegretario del Ministero dell'Economia e Finanze della Lega, che dettaglia un po' meglio quelle notizie che avevamo letto ieri e dice, gli viene chiesto da Andrea Ducci, sottosegretario conferma appunto che ci saranno meno tasse per chi fa figli e lui dice l'idea è inserire un tetto alle detrazioni che sia tarato in base al reddito e al numero dei figli a carico. Non discrimineremo le famiglie che non hanno figli o i single, non un euro verrà sottratto a questi contribuenti. E poi ancora dice, le detrazioni sono troppe, assistematiche e molte intercettano una platea minima. Tagliare si deve e si può, mai su sanità, casa e lavoro. Quel che risparmieremo lo useremo per abbassare le tasse. Poi gli viene chiesto anche appunto se il taglio dei tassi in qualche modo ci possa venire in aiuto e se avrà un impatto, come sapete, sul nostro debito pubblico che è decisamente pesante, sugli interessi del debito e lui dice il taglio dei tassi deciso dall'ABC è un primo passo, ancora timido, ma c'è un impatto. Lo avrà sebbene sia prematuro fare stime. Quindi questa è la valutazione che viene fatta dal Ministero dell'Economia e ecco qua, Avvenire ritorna su questo tema anche Avvenire ci apre, vedete, in manovra sui figli e l'attenzione di Avvenire però è ancora una volta sulla questione della natalità perché tutta questa operazione nasce, diciamo così, da quello. E allora scrive Avvenire il sostegno alle nascite sul tavolo del vertice di maggioranza e c'è, diciamo così, anche la benedizione, fra virgolette ma in realtà anche vera, di Zuppi che è il segretario della SCEI che dice benissimo se si va avanti tuttavia l'ipotesi dell'aumento di detrazioni se fatto un calcolo servono dai 5 ai 6 miliardi quindi vediamo se ci sono davvero e l'altra cosa che evidenzia Avvenire è che il PD non chiude a un confronto nel merito quindi sembra essere una misura che trova, diciamo così, più appoggi visto che sono sulla prima pagina di Avvenire però a proposito di bambini, di figli vi segnalo, ahimè, un'altra notizia cioè questa della stretta su donne incinte e neonati che il giudice potrà mandare in carcere è una delle norme del DDL Sicurezza che è stato votato ieri ne scrive Luca Liverani e ci racconta che appunto non è più previsto nessun rinvio di pena per le donne in gravidanza o con figli di meno di un anno l'eventuale differimento della carcerazione quando il DDL Sicurezza sarà approvato definitivamente anche al Senato sarà esaminato caso per caso dai giudici quindi l'Aula ieri appunto ha approvato quest'articolo 15 che rende facoltativo e non più obbligatorio il rinvio della pena per le neomadri detenute Forza Italia che inizialmente si era detta contraria ha votato con Fratelli d'Italia e Lega e come avevamo già visto freno tirato anche sul capitolo dello Iuscole perché la priorità è la manovra ha detto Tajani ma faremo una proposta insomma poco anche da lì è un tema importante? sì che lo è tant'è che noi ci andiamo a vedere intanto ecco per esempio il giudizio che ne viene dato dall'unità a proposito di tutto questo DDL Sicurezza liberali addio approvate la legge Erode così addirittura la chiama e la legge anti Gandhi perché come sapete si riguarda anche le proteste che avvengono per esempio in carcere ma non solo anche il blocco stradale per esempio è stato sanzionato e di questo allora ci parla il foglio con un articolo di Hermes Antonucci che in realtà fa un po' un bilancio di questo DDL Sicurezza e dice è sostanzialmente il trionfo del vecchio populismo penale il testo introduce pensate 24 tra nuovi reati aggravanti e inasprimenti di pena per la gioia di Fratelli d'Italia e della Lega la sicurezza sarà la mia priorità nei prossimi mesi riporta una frase detta da Meloni e però nota Antonucci in realtà perché non costa nulla basta inserire un breve inciso in qualche articolo del codice penale e il gioco è fatto il prodotto viene realizzato a gratis e può essere venduto all'opinione pubblica opinione pubblica opinione pubblica che però di sicurezza si occupa e si preoccupa come sapete c'è stata questa vicenda terribile io lo definirei sinceramente delitto questa signora che è stata scippata e non ha esitato un attimo a salire sulla propria auto investire l'uomo che l'aveva scippata che le aveva derubato la borsa e passare sopra con la sua macchina 3-4 volte appunto fino ad ucciderlo c'è una protesta ce la riporta come vedete QN quindi giorno, nazione, resto del Carlino delle sorelle di questo uomo 47 anni di origine peraltro marocchina non algerina come era stato detto all'inizio in Italia da 24 anni e la questione si complica perché queste signore si appellano che sono appunto due delle sue sorelle si appellano al re del Marocco dicendo quella donna appunto lo ha investito per quattro volte nemmeno un animale si uccide così ahimè hanno sicuramente ragione vi voglio far vedere prima di chiudere come dire questa specie di pagina a latere di giustizia che abbiamo aperto anche il messaggero che riporta invece un'intervista al ministro della salute Schillaci perché sapete che c'è anche un tema di aggressioni sempre più frequenti negli ospedali e allora fra le questioni che sono state approvate c'è anche la flagranza di reato nelle 48 ore che cos'è la flagranza di reato? è più o meno quello che dice il ministro Schillaci quello che si applica anche negli stadi cioè se vieni riconosciuto come colui che è aggredito anche insomma nell'immediato puoi essere arrestato entro le 48 ore e la cosa che lui dice è che appunto i dati parlano glielo ricorda Mauro Evangelisti che lo intervista di quasi pensate 50 operatori che vengono aggrediti verbalmente o fisicamente operatori sanitari ogni giorno quindi insomma che ci sia un problema di sicurezza è indubbio anche se poi lui nel dare diciamo così una spiegazione di questo fenomeno oltre al fatto che dice ci possono essere problemi organizzativi eccetera eccetera dice una cosa curiosa adesso la gente dice va tutta su internet e questo che cosa comporta dice perché sulla rete trovi di tutto quindi hai anche diciamo così una maggiore consapevolezza magari delle malattie eccetera eccetera però ci sono anche le distorsioni perché arrivano pazienti che hanno letto cose fantasiose su internet magari cure avvenieristiche che però sono solo oggetto di studio e quindi le pretendono e però poi ahimè non le possono avere e però questo non significa che poi devono picchiare e malmenare i poveri medici ci fermiamo qui poi riprendiamo a parlare di scuole di figli perché stanno iniziando le scuole in questi giorni ma sono le 7.14 piccola pausa e ritorniamo fra un attimo alle 7.20 apriamo la Repubblica intanto ci andiamo a vedere la prima pagina titolo sulla BCE a parte quello che attira di più la nostra attenzione riguarda come vi dicevo la scuola soprattutto gli stipendi dei professori prof ultimi della classe scrive Repubblica che ci propone questo rapporto OXE Education del 2024 che mette a confronto gli stipendi degli insegnanti dei diversi paesi membri dell'organizzazione che raduna i più sviluppati sul piano industriale e constata come l'Italia si ancora una volta infonda le classifiche in diverse voci siamo i penultimi peggio di noi solo la Grecia per l'aumento dei salari degli insegnanti di media inferiore e quindi questo appunto giustifica il titolo Italia fanalino di coda per gli stipendi dei professori investiamo dice ancora Repubblica il 4% del PIL rispetto al 4,9% dei paesi a sviluppo industriale avanzato e allora ecco qua anche l'intervento della segretaria del Partito Democratico che dice il governo continua a sottopagarli perché non crede nel futuro del paese Meloni in questi 24 mesi ha fatto due manovre sostiene Schlein dimenticando del tutto la scuola e il diritto allo studio bisogna ridare ai docenti dignità sociale è una questione di democrazia la diseguaglianza spacca in due l'Italia questa è l'intervista a Schlein di Corrado Zunino visto che stiamo parlando di giovani vi voglio proporre una ricerca molto interessante che viene pubblicata da domani e che riguarda giovani e politica a proposito della vittoria sicuramente la ricorderete ve ne parlavamo la settimana scorsa in Germania nelle due regioni tedesche soprattutto dei partiti di destra in particolare della AFD Alternative Eurodeutschland ebbene secondo uno studio dell'Università di Postdam che è un'università importante tedesca appunto il trionfo alle elezioni in Sassoni e Turingia è stato determinato dai social media in termini di visibilità l'ultra destra doppia la somma di tutti i partiti ma soprattutto e questo è il dato appunto interessante riesce a portare alle urne i ragazzi fra i 18 e i 24 anni ecco perché allora la destra social si organizza su TikTok così i neri scritto fra virgolette conquistano i giovani tedeschi insomma saper utilizzare social media è importante non a caso e lo prendo dal giornale l'endorsement di Taylor Swift per Kamala Harris dopo il dibattito fra Trump appunto e la candidata democratica ha avuto pensate un esito molto interessante lo riporta il giornale effetto Taylor Swift per la Harris porta al voto 406.000 astensionisti il post appunto della pop star in cui annunciava l'endorsement ottiene 10 milioni di like e questo forse non vuol dire molto quello che invece vuol dire tanto sono questi 406.000 perché in realtà il dibattito non serviva per convincere chi già era orientato ma serviva per convincere gli indecisi quelli che o non sapevano chi votare o pensavano proprio di non andarci a votare e beh 406.000 astensionisti non è poco quindi è un risultato diciamo così interessante la vicenda boccia tiene banco e come se lo tiene anche con i rinfacci ma la sinistra faceva così la sinistra faceva colà o fa così e colà il libero ne approfitta subito per raccontarci una vicenda locale ma che insomma è abbastanza divertente fra virgolette ovviamente divertente compagni e so fa il PD tiene sempre famiglia la regione Puglia assegna l'appalto per i nuovi arredi alla Emiliano SRL dei fratelli del governatore scoppia il caso e la difesa è forse ancora peggio perché insomma è imbarazzante dicono c'era sfuggita per l'appunto la omonimia va bene facciamo che ci crediamo intanto invece per boccia ci sono i veri guai giudiziari scrive il Corriere della Sera due viaggi in particolare sono nel mirino degli inquirenti arrivano infatti sul tavolo della Guardia di Finanza la richiesta di fare accertamenti su due viaggi di San Giuliano e Boccia a Riva Ligure e Polignano fra l'altro questa vicenda si porta dietro anche un'altra questione ovvero e ne scrive Monica Guerzoni sul Corriere della Sera che avendo dovuto già sostituire San Giuliano sostanzialmente dice Meloni ha superato diciamo così quello che lei definisce il tabù del rimpasto per cui ci saranno altre novità nel governo intanto c'è questa piccola della Lega se volete con la nomina di due vice di Salvini ai vertici della Lega quindi non riguarda il governo ma appunto i vertici della Lega ma invece all'interno del governo dice Guerzoni per Daniela Santanchè probabilmente ci vorranno ancora mesi perché il processo è appena agli inizi e quindi insomma il 9 ottobre si terrà la prima udienza ma intanto bisognerà sostituire fitto e quindi vedremo che cosa accadrà nel frattempo c'è a proposito di processi ce n'è uno in corso e se ne parla sul fatto quotidiano ed è il processo a Salvini processo a Salvini di cui si parla ecco qua subito a pagina 3 open arms Salvini come B raduna i suoi davanti al tribunale perché scrive Valeria Pacelli Matteo Salvini appunto li ha chiamati li ha convocati tutti i parlamentari leghisti il 14 settembre quindi domani dovranno presentarsi davanti al tribunale di Palermo per la prossima udienza del processo open arms il leader del carroccio è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio i fatti risalgono all'agosto del 2019 quando da ministro dell'interno Salvini nega lo sbarco alla nave della ONG spagnola lasciando in mare 147 migranti l'imbarcazione resta per giorni davanti a Lampedusa con i profughi a bordo e la situazione in totale stallo viene sbloccata solo dall'ordine di sbarco dato dalla procura di Agrigento Salvini come sapete in più occasioni ha rivendicato questa sua scelta politica però intanto il processo c'è e domani si comincia e a proposito di migranti il manifesto oggi ha una prima pagina tutta sua ma che credo sia importante farvi vedere perché questa donna che invece è un attivista per i diritti umani è in carcere proprio perché viene ritenuta invece dal nostro governo pensate addirittura una scafista in fuga dall'Iran dove ha partecipato alle lotte di donna vita e libertà l'artista kurda l'artista kurda Maison Magidi è da nove mesi in una cella italiana con l'accusa senza prove di essere una scafista cercava asilo e salvezza ieri ha ricominciato lo sciopero della fame questo ci porta a parlare di guerre purtroppo sì la stampa ha una doppia pagina molto dettagliata sulla cosiddetta strage della scuola a Gaza dove sono morti sei dipendenti dell'ONU e però Israele dice attenzione perché in realtà erano miliziani di Hamas almeno tre di loro ed è una notizia che sembrerebbe in parte confermata anche da una decisione o meglio da una dichiarazione che arriva proprio dalla Svizzera dove la conferenza scusate si riunisce appunto questo consiglio elvetico che ha votato contro le raccomandazioni della commissione raccomandazioni e questa mozione è stata presentata e approvata appunto da una delle due camere sulla scorta del rilievo che l'azione dell'URVA che sarebbe l'ONU appunto l'agenzia ONU a Gaza apre le porte alla corruzione e al dirottamento delle risorse verso le organizzazioni terroristiche insomma quello che si era già detto una volta che c'erano molti sospetti molte opacità diciamo così sulle sull'ONU le agenzie ONU a Gaza sembra ahimè confermata ultima notizia che vi do ultima segnalazione la voglio prendere di nuovo dal Corriere della Sera ma anche da Libero di nuovo perché il Corriere della Sera è libero sono fra i pochi giornali che segnalano in modo diciamo così dando il giusto peso questo allarme e questa conferenza stampa fatta ieri da Putin che ha detto che se la Nato darà il permesso all'Ucraina di sparare i suoi missili lui considererà appunto la Nato sostanzialmente in guerra mentre come sapete alcuni colleghi fra cui Stefania Battistini della Rai sono addirittura ricercati in Russia per aver raccontato quello che succede a Kursk ebbene anche Libero si accorge di quanto sia importante questa vicenda nel suo editoriale il direttore Mario Secchi adesso lo trovo eccolo qua parla dei ricatti di Putin e dei sonnamboli dell'uccedente perché dice attenzione quando Putin parla va preso sul serio sono le sette e mezzo Fabio Angelicchio buongiorno a te la parola si Flavia buongiorno grazie allora come dicevi tu parleremo anche di Russia di Putin perché realmente lui ha detto nel caso dovessero autorizzare Zelensky ad utilizzare i missili a lungo raggio ovvero per colpire il territorio russo dice questo per noi equivarebbe ad una guerra a una dichiarazione di guerra da parte della Nato contro Mosca potete immaginare chiaramente che scenari si aprirebbero ma non parleremo solo di questo parleremo anche della manovra economica ieri c'è stato un secondo vertice a Palazzo Chigi di governo il ministro Giorgetti ha illustrato quelle che potrebbero essere le linee guida della legge finanziaria che verrà discussa nel prossimo Consiglio dei Ministri e poi verrà naturalmente inviata a Bruxelles e poi il Papa è ripartito da poco da Singapore attirerrà oggi pomeriggio qui a Roma è stato il 45esimo viaggio pastorale internazionale e l'ultima tappa è stata Singapore questo è molto altro ancora ma prima di rivederci nel telegiornale diamo la linea a Paolo Sottocorona per sapere che tempo avremo nelle prossime ore a te Paolo buongiorno 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 la perturbazione quella principale è questa che si è ormai spostata verso est ancora tocca alcune zone dell'Italia però potremmo dire che il grosso è passato però c'è un secondo impulso come una piccola perturbazione con i suoi effetti però non trascurabili anche lei attraverserà la penisola nelle prossime ore quindi la previsione per la giornata di oggi vede la parte più intensa vedete ormai spostata verso est però quella piccola zona che abbiamo visto sta attraversando le zone del centro arriverà in giornata anche al sud quindi centro e sud ancora con dei fenomeni in attenuazione a partire dal centro già in parte attenuati al nord dove restano delle piogge più deboli ma in questo contesto una pioggia debole è la situazione normale sono le parti intense i temporali quelli che diciamo ci interessano di più giornata di domani l'attenuazione c'è sicuramente rimane sul versante adriatico la possibilità di qualche fenomeno intenso però vedete che al nord non c'è più nulla al resto del centro e il sud forse anche qualche pioggia ma non più intensa e poi arriviamo alla giornata di domenica in cui di fenomeni ne resta ancora qualcuno sono le zone del Gargano in Sicilia ma sono casi isolati perché nord e centro vedete che per il resto sono assolutamente tranquilli con temperature ovviamente più basse ma tenderanno a salire nel corso del fine settimana chiudiamo con le temperature appunto minime di questa mattina vedete il verde al nord è aria più fredda è entrata non sarà gelida ovviamente però rispetto ai giorni precedenti il salto c'è stato e è stato dei mari con questo chiudiamo tutti ancora da mossi a facilmente agitati il colore rosso vedete ci sono venti da ponente piuttosto forti ma anche questi nel corso del fine settimana si attenueranno se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio a più tardi